gildare la nostra che ce stai a fare de bono oggi tutta giallo sole guardate che splendore raga che meraviglia dice gildare allora ciao amori miei allora oggi preparo le patate al forno con le sarcicce eccole qua eh sarcicce guardate che belle e tre belle patatone che adesso io le sto a capà poi le sciacquo le tagliamo bene bene le gocemo e se le maniamo e poi è certo eh allora adesso io le taglio a fette così e dopo le vado a lavare va bene ecco mi faccio lo spessore eccole io taglio un po sul fino di solito eh neanche mezzo centimetro ecco fatto allora le patate le abbiamo lavate eccole qua belle qua che c'avemo l'aglio poi rosmarino e rosmarino che profuma guarda che aglio bello eh e qua c'è i miei sarcicce vabbè sarciccette già le abbiamo fatte vedere e le famo rivedere se ne hanno viste bene scusa eh le faccio vedere gildarella che lo so che preferite vero raga dai ecco la gildarella vai gildarella gildarella di luna è proprio gildarella di luna colorate e se c'è la luna piena io divento matta allora dai e va mettiamo meglio ride eh oh certo vedi un po' e dai e dai ecco mettiamo le patate ecco fatto ecco qua allora allora ho messo olio di oliva eh allora mettiamo l'aglietto così un po' di qua un po' di là ecco fatto rosmarino bello mi piace troppo il rosmarino quanto mi piace con lì ma mia è una cosa spaccia a sto profumo e da un sapore che è una bontà regà veramente guardate ah mettiamo un pochettino di sale poco poco eh allora io ho messo così non è che ho messo perfetto eh che giro alla singhe song l'ha messo eh gildarella ecco brava ecco così allora adesso il pepe vai col pepe e vai vai così vai così di pepe giriamo bella mischiata che emani è certo che se mischiano meglio se insaporiscono meglio capito sì allora adesso allora e una mettiamole così eh con una patatina sotto voilà e sistemo va bene esistemo per feste ecco fatto poi due tre e quattro allora così se saporisce tutto eh ecco fatto tiè chiamo ecco qua siamo qua eh gildare ah ecco ci stiamo a guardare allora adesso metto l'olio mi stavo a asciugare i mani perché mi fa fastidio io questa do per un cucina eh allora olio olio sempre d'oliva eh oggi abbiamo usato come se più queste perché le sarcicce sono magre va bene ok allora adesso io queste le vado a infornare a forno caldo a 180 guardate io questa è noretta noretta mecevole va bene perché il forno lo tengo a 170 adesso che li metto dentro namo va namo eccole qua guardate ragazzi arriva il profumo che bontà amori guardate che belli guardate le patate bella bruscate e adesso noi siamo namo a mangiare che spettacolo ecco fatele un piatto semplice questo è il piatto della domenica però noi lo famo il lunedì il martedì lo famo quando ce pare quando ce pare però questo è un bel piatto che mi madre ce lo faceva domenica infatti una volta si faceva la stessa domenica infatti fettine panate patate al forno sarcicce eh no vabbè allora amori miei fatelo io vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda e lo sapete che vi amo tutti 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 che piatto ricco mi ci ficco e lo sapete Grazie a tutti